Ah è vero Sì Pasch effettivamente è morto Questo gioco Quello è vero guarda Quello è vero l'avevo dimenticato L'avevamo dimenticato Scusate mi serviva giusto per prendermi un altro po' di gauge Benvenuto nel mio fantastico mondo John Marco Nel fantastico mondo del Bloods One Voto Voto che mi abbia droppato l'ultima carta Per favore Poco lo squagli o non lo squagli Perdonami capiamo Capiamo due secondini Eh bravo Eh lo so frate ma devi lanciare prima la carta E quello è il problema L'hai lanciata La carta l'hai lanciata perchè ho visto il gauge Allora Aspettate Oddio Oddio Fermi 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 Perchè qui Qui si è compreso un'altra cosa E si è compreso un'altra cosa Eeeh E già E già E già E già E già Perchè io avevo il Racing Rush in mano E attenzione perchè quando ho usato quella verde Sospettosamente Quando si è attivato il punto esclamativo Eh vabbè due punti Sospettosamente però All'avversario Gli si era caricato il gauge Cosa vuol dire Che sicuramente non era un tackle Che sicuramente l'avversario non mi stava per attaccare con un tackle Ma mi stava per attaccare O con una blast o con una strike Quindi Rising Rush Da face Da face nel senso in faccia Cosa capite Cosa capite niente guarda madonna mi ricordo più come se gioco da ultra comunque eppure l'ho usato un paio di giorni fa no raga e mo non riesco a collegare vi giuro cioè non riesco a collegare sta cosa che mi state dicendo sto pensando a sta partita aspettate un secondo questi manco sarebbe sbagliato arrasciarseli manco sarebbe sbagliato arrasciarli questi qui tanto kokumui quali problemi potrebbe darci prima del gogeta pur c'era quello ultra lo facevi a lui ma sei sicuri che avevo la possibilità di loccarlo con la special non mi ricordo non so devo aver fatto qualche valutazione non lo so forse non ce la faceva a shottarlo non lo so godo vai ma comunque deve giocare deve giocare insieme a gogeta semplicemente ho sbagliato a fare sto special e cioè sta verde probabilmente si vabbè gogeta ha detto una regolata perché eh fra mi ha fatto perdere la combo che è successo non ho capito che cosa è successo ma cosa è successo scusate che cosa è successo sta laggando cioè quello è successo sta laggando come sempre ma ha fatto perdere la combo cioè buona però sapete all'interno di sto team quello che sto notando è che è buona la copertura di Tapion veramente ottima di ottimo livello di ottima fattura di alto profilo vabbè tu non tu non ti saresti mai lasciato scappare la possibilità di farmi entrare l'ultimate ed è proprio quello che ti ha fottuto ormai ormai l'aveva attivata questo lo voleva la voleva lanciare lui per forza per forza la voleva lanciare ue 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 calmo non mi lasciare per favore mi lasciare vabbè 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 non è un problema abbiamo comunque il counter per entrambi i colori si abbiamo il counter per entrambi i colori dovrei avere a disposizione Tapion quindi in teoria potremmo farcela ci siamo ci siamo ci siamo Tapion Tapione Tapione Eccolo qui anche il Lagone e Tapione c'è e pure il culone c'è una volta tanto ogni tanto e ma basta vabbè dai vabbè dai ci sta prima io mo lui però se sta mi salva allo 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 io ci provo in teoria dovrebbe andare a meno che non succeda una pazzaria anche se non avevamo il gauge attivo e tutto il resto però avevamo tolto noi il Vanish alla fine non ha fatto un cavolo tutta la partita comunque credo non ha fatto un cavolo praticamente in grande fin quando lo crea ue 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 calmo qua allora cosa fondamentale attivare subito la main con Gudeta e spararla su Kieron che pur su Vegetta la ulti manchia questo cennettino consolidate però aspetto che un attimo questi mo cagheranno proprio ma basta A stare sempre sopra di uno Dai, dai, dai POM 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 Vai Bella Pettapione Ce la fai, ce la fai, ce la fai Bella pettapione Pettapione sgravato Pettapione mio Pettapione mio Mamma mia, guarda il tapione come vola Goku terzo, non pervenuto Ho fatto un cazzo manco questa partita Oh Su Oh, che cazzo Ma che cosa mi stai dicendo? Va bene così, va bene Mamma mia, stasera i mui proprio hanno cacato le palle Hanno cacato le palle stasera i mui, veramente Mata na Mandate si, mandate manna Basta Ho, che cazzo ma Grazie a tutti.